Buongiorno, benvenuti al nostro appuntamento settimanale con le pigliole di schema vincente. Oggi siamo fuori dal nostro ufficio, siamo dal nostro fornitore ufficiale di calorie, una premiata pasticceria spoletina che fa dei dolci fantastici. Periodo natalizio, dietro a me la sedia di Babbo Natale, dei Re negli Elfi, dove i bambini nei prossimi giorni andranno a ritirare i regali. Parliamo però dell'argomento del giorno, sono piattaforme social, l'abbiamo detto la settimana scorsa, oggi faremo una piccola pillola su quelle che sono le piattaforme dove andare a fare investimenti pubblicitari per le vostre campagne marketing. Dividerei due categorie di social, la prima Facebook, Instagram, Twitter, piattaforme dove noi andiamo a ricercare i nostri contatti, i nostri amici, dove vediamo quello che succede nella nostra schiera di contatti e diciamo che sono le piattaforme dove andiamo a cazzeggiare un po'. Seconde piattaforme, YouTube e LinkedIn invece, sono piattaforme social dove noi andiamo a ricercare dei contenuti. Abbiamo internet che ci dà la possibilità, in qualsiasi momento ne vogliamo, di poter ricercare contenuti e poterci rivedere con calma. Quelle sono piattaforme ottime dove andremo poi, in base alla nostra strategia di marketing, a portare i nostri contatti. Partiamo da Facebook e Instagram che sono i due social network più utilizzati per fare le vostre campagne pubblicitarie. Anche noi li consigliamo e noi con il funnel marketing che cosa facciamo? Facciamo campagne pubblicitarie mirate ad attrarre l'attenzione del vostro potenziale cliente sul vostro prodotto o servizio che volete proporre. Una volta attirata l'attenzione, il nostro contatto che abbiamo acquisito sulla piattaforma social inizia a seguirci e diventiamo per lui familiari. Gli diamo dei contenuti che sono di suo interesse e trasformiamo un potenziale cliente che non ci conosce in un potenziale cliente invece che è disposto ad acquistare il nostro prodotto e servizio. E questo è il risultato che vogliamo ottenere. Si inizia sempre dalle piattaforme social o da campagne Google ADS per poter iniziare un percorso di funnel marketing. Oggi ci fermiamo qua. Siamo quasi arrivati al Natale e io, Schema Vincente e tutto il team di Simmedia vogliamo farvi i nostri migliori auguri di Buon Natale. L'appuntamento è la settimana prossima dove brinderemo al nuovo anno. Iniziamo a pensare quali sono gli obiettivi per il 2019 e quali sono le cose che sono andate bene o meno bene nel 2018. Facciamo un punto della situazione su questo. Buon Natale a tutti!